musica 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 Allora vedi la collinetta che c'è proprio davanti a noi prima di Pinnacoli, la piccola collinetta, proprio dove ci sono due alberi lì C'è proprio Pinnacoli, però è là dove andare proprio lì, credo Ma qui? Proprio qua, qua davanti Proprio a Pinnacoli qua, dove ci sono questi due alberi qua Dovrebbe essere qui la stella, eh, non credo C'è Ma tu basta che vai nell'edificio accanto, non sai che vieni qua con me Eccola, la vedo Ok, l'ho preso Come l'ho preso? Hai ucciso uno? Mi scudi Oh, c'ho un mini scudo, eh Per te Dove sei, sei sopra? Eh, non sei sopra Ah, hai bevuto con scudo, eh, ormai Tu sei sotto di me? Allora Questo è tutto sopra? Il tesoro qua sento, ma... Sopra, sopra o sotto? Sì, rimane a scattare Sicura? Deveva essere sotto Eccolo Suca Un cazzo E' maccolo Che cazzo Allora, eee, niente, eh Andiamo o no? Andiamo, dove ci metto sta? Boh C'è non so dove andiamo, non accanto così Andiamo andiamo in questo qua qua di qua accanto solo uno qua eh oh da sopra cazzo ah grazie a te io ho due colpi qua ammazzati sono troppo addio eh no fermo 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 resta là fermo ah l'ho ucciso i coglioni di merda cazzo volevano fare no però sono rimasto con venti di vita guarda che c'è uno scudo piglio tutta no hai preso il pompa verde la piglio io no non ce n'hai band non ne hai no questo non ne avevo neanche una possibile ce n'hai munizioni del del cecchino che ne ho zero si tieni tieni lascio da qua ok vediamo no tutto guarda è bello però non siamo dentro eh eh si infatti ho fatto che ci sparano un colpo siamo morti praticamente forse qua non ci sono stati ma non è sicuro qua di solito non ci va nessuno infatti vedi che sembra che non ce l'ho mai tante cazzo di band si va a c****a aspetta forse qua dentro magari c'è qualcosa ma com'è non spara più nessuno? oh come ci sono andati eh c'è uno scudo, pigliatelo c'è un tesoro sopra è ancora più sopra che c'è adesso ancora non c'è ancora più sopra strano che è ha un kit che forte portabile minchia dai però c'è un altro tesoro sopra eh però c'è una benda porca puttia il medikit però eh vedi pompa blu aspetta che faccio così ecco quanto tesoro? gli scudi per caso? ah vai 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 a me uno solo me ne serve te non c'è più nessuno mi sa eh perché non nessuno si sta sparando eh meglio no? allora andiamo a cercare altre roba scendiamo? si scendiamo così vabbè scendiamo così tre ora quanta cazzo è alta però no ma c'è un altro tesoro aspetta c'è un altro tesoro qua 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 eh ma non è più più so allora credo no 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 allora è più sopra forse ma dov'è? è qua sotto la sotto ma 4 a blu vediamo eh prendiamo di qua ci sono le emulizioni si si apri no beh mi ha detto mi ha detto scusa? ah no di qua si ah 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 ho un altro scudo qua eh piglia te la no qua c'è un cecchino altri mini scudi no sono caduto ma che cazzo chi sei esatto? no c'è un scudo, capito? arriva no? no fai la scala, fai la scala qua ma dove sta? no ma da dentro, qua da dentro vabbè lo vuoi un cecchino qua? cucina da caccia verde ah sono cazzo ecco poi c'è un fucile da caccia verde se ti interessa qua eh eh no che ce l'ho ma i mini scudi ce li hai tu? no non ce l'ho più allora andiamo poi ci siamo entrati qua aspetta ma dov'è che dobbiamo andare? eh dobbiamo spiegarci allora vediamo qualcosa qua e poi andiamo via ma eh quella nuova eh bella? eh c'è il mirino ottico guarda prova a mirare guarda guarda però oh pigliamo qua non ci dai c'è qualcuno c'è qualcuno eh è stato sopra o sotto capisco se sono dentro oh sono sopra forse eh andiamo via? oh ma dobbiamo andare via eh non c'è tempo via 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 eccoli però qua lo prendi non ho? Ehm vai infatti vai c'è c'è una jump tante volte no non credo corre corre no ma ma vaffan costruisci no eh ci fotte ci fotte eh vabbè un po' si no qua c'è un altro scudillo a questo punto vai 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 oh vedi che non c'era tanto ce l'ho fatto perdere un po' di tempo sti coglioni qua anzi non è che subito le abbiamo uccise ah infatti ma non ne hai bende tu perchè no vero no c'è quello eh quello bevitelo tu tanto vabbè proprio ammazza eh ma pure adesso io non ho bende non ce l'ho per curare non è che c'è un falò magari qualcosa del genere tipo buono oh saliamo di qua spalciamo prima sono per cadere come una puttana giugora dai curati aspetta no qua c'è un tesoro a volte eccola dai ma dammi un kit no di fronte a noi stanno come di fronte a noi ma ci siamo in alto hanno costruito ah lo costruito ah si si lo so vero è tutto quello che ho sentito prima io non c'ho mezza vita cazzo oh ma quello hai visto quello che ha fatto no ma è andato sopra l'albero no non parola è morto ma è morto è morto prima di robo mica come l'ho preso ma è chi? oh vieni 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 dai quell' oh quello si è suicidato che voglia che era qui eh io più io invece c'aveva un kit perché non mi serve cazzo gli bastano l'rioche eh beh qualcosa per curare ce l'avranno no? un altro scudo ma che cazzo me ne fa quanti scudi lo scarviala oh comunque ce l'ha il tito oh qua vedete i popieri di scudi non so c'è uno scudo grosso vabbè lascia stare dove? eh la dietro via 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 materiali mi servono ne ho tantissimi pure sono ammerso oh le bende sono troppo ma tu cos'è che c'hai? io c'ho due scudi grossi e quelli piccoli io non c'ho un cazzo di queste cose ah ok eh ma le bende non ne hai nemmeno qualcosa per curare? no ma figliere no mi chiesto non l'ha sopra ma è quello di prima oh no a uno mi sa che ma l'avevi beccato un po' a uno si a uno si oh sta cadendo un drop qui dietro di noi oh ma qua c'è del legno aspetta vorrei che eh si per 4 stanno là sopra di sicuro no ho visto con il ho visto l'infrarozzi sembra che non ci sia nessuno eh si vabbè però è strano che ci sono tutte quelle cose lì è arrivata nascosta qualche qua vedi vedi che ci stanno aspettiamo sto drop qua la pigliamo e poi e poi non lo so vediamo dove dobbiamo andare tu c'è la vita al massimo no? ok sono la vita al massimo 7 ok stiamo vicini alla cosa mi chiamo qua nel monte sti bastardi sono dentro mi sa quei coglioni vediamo? vai vai però dobbiamo costruire perchè sennò aspetta cos'è? un cicchino d'oro aspetta aspetta aspettiamo qua eh si si perchè se andiamo avanti anzi no no forse possiamo andare nella casa di fronte andiamo magari c'è qualcuno qua occhio restiamo nascosti vaffanculo siamo 7 2 siamo noi però quelli sono sopra sono dentro sopra quel bastardi oh e l'altro l'ho ancora costruendo la sopra eh sì ma rimaniamo nascosti perchè sennò riusciamo adesso ci sparano qua tante volte c'è qualcosa fai farti vedere un pezzo lo sento sì ma dove? io non sento niente ma dove lo senti? ah è vero ma dove? sotto ah non era quello del dell'hack ah ah sta andando avanti che veloce via 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 ora come mica facciamo però dove stanno è sopra qua a destra facciamo costruisci i muri così guarda aspetta aspetta che vieni 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 no no dove vai che fai no 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 è pericoloso perché ti beccano da sopra no no vieni qua resta qua lasciano la lasciano la vedi sembra che siamo lì i coglioni restiamo qua vaffanculo costruisci così ma se non ci possono sparare se scendono gli spariamo vediamo allora si chiude lì dove hai messo tu il coso mi sa ora devono scendere loro eh anzi sai che faccio vabbè ci mettono ci mettono una trappola ci metto a caso scendono da lì vabbè che hai fatto qua bello però controlliamo se scendono allora siamo due noi e sono altri due altri due siamo facciamo andiamo? eh no aspetta aspetta dove andiamo? eh dobbiamo andare nel fortino là a sto punto non so se è dentro proprio dove l'hai lanciato tu proprio eh si si è dentro dentro aspetta 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 un po' così vediamo se li vediamo cosa sta sparando eccolo uno lo vedo lo vedo lo vedo e chi è che sta sparando? lo vedi? no dove? eh eh davanti alla casa quella con la cupoletta lì andiamo? aspetta 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 stanno giusto si aspetta che stanno qua questi ci aspettano ma che passiamo prima noi per spararci che cazzo non è che c'ho tanti materiali comunque eh ma adesso dobbiamo avanzare però arriva andiamo 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 occhio eh vedi 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 andiamo dietro al coso andiamo dietro al coso ahhh va bene voglio a me fornessi andiamo un po' di cosa non è che c'ho tanti materiali eh questo e' un problema allora ma oltre come le fai queste cose però sì mal seguridad dai non ci credo proprio da loro si chiude a me è sciocco il bastardone oh ma che c***o figlio di oh eccoli eccoli quelli sopra eh addio ma non si è fatto niente eh no ma che c***o ma non è io che si fanno tutti a noi allora oh quattro opzione oh eccolo attento ci sono medici oh è quia avancrono si si la